Musica Alle 14.50 più di metà dei corridori erano arrivati. La prima bomba esplode. Notizia dell'ultima ora dal Canada. La polizia dice di aver sventato un attacco terroristico collegato ad Al-Qaeda che mirava a distruggere una principale via di trasporto nordamericana. Una nuova e secca dichiarazione di guerra totale. Per la prima volta la misteriosa e riservata nazione ha minacciato un attacco nucleare preventivo contro gli Stati Uniti. Anche la Spagna sta sentendo la stretta economica. In quel paese uno su quattro sono al momento disoccupati e si prevede che la disoccupazione salirà ancora. La Cina e i paesi limitrofi stanno mobilitando le risorse per contrastare un nuovo ceppo di influenza aviaria. Ospedali in corsa contro il tempo per contenere superbatteri prima che si diffondano fuori dagli ospedali, nel mondo. Ah! Gesù, mi avete spaventato. Ma ehi, immagino vada tutto bene, giusto? Se guardate queste notizie ogni giorno, sembra che ci siano molte cose per cui preoccuparsi. Guerra nucleare, terrorismo, stermini di massa, bombardamenti di città, frodi societarie, influenza aviaria, fallimenti bancari e disoccupazione. Inquinamento, bande, crimini in genere. E in base al vostro carattere e condizionamento, forse vi sarete già armati fino ai denti. E starete guardando questo spettacolo in un bunker sotterraneo da qualche parte e aspettando la fine della civiltà stessa. Qualunque sia il problema, l'idea di proteggersi da tali sventure ha sempre una maggiore diffusione oggi. Prigioni, polizia, assicurazione, garanzie, agenzie di vigilanza, armi, militari e personali, perquisizioni doganali, sorveglianza governativa, eccetera. Rivelano una cultura di paura, per così dire, su molti livelli. Per non parlare della tendenza moderna in cui tali rischi sulla sicurezza attraggono la nostra attenzione. Per esempio, prima degli anni Ottanta, il pensiero che qualcuno, mentre va al lavoro, faccia fuori un paio di persone, allora era un concetto relativamente remoto. Oggi vediamo ripetutamente questi atti di apparente violenza casuale, non solo nelle aziende, ma nelle scuole, nelle chiese, nei cinema, nei negozi, agli eventi sportivi e in altre istituzioni comuni. La nostra capacità di ragionare, nonostante questa oscura realtà, non è forse così misera, come lo sono invece i metodi arcaici che noi, come civiltà, abbiamo architettato, nel tentativo di opporci a questi problemi. Ad esempio, a seguito della crescente violenza armata degli Stati Uniti, la National Rifle Association vi dirà che il problema è la mancanza di sicurezza armata e che solo se armassimo semplicemente ognuno, come nel selvaggio West, i problemi di violenza sociale cesserebbero. Mentre all'altro estremo, la gente vi dirà che il problema è piuttosto causato dalla facilità di accesso. È troppo semplice avere un'arma. La strada giusta è togliere questa facilità d'accesso alle armi. Tuttavia, questi argomenti indicano il vero problema. Indicano la fonte del problema comportamentale. Dov'è la discussione nazionale sulla motivazione e la condizione sociologica da cui questi atti scaturiscono? Sottolineo questo, poiché è in un'era tecnologica in cui le persone possono ora stamparsi armi automatiche in segreto con stampanti 3D in casa, aprendo la strada ad un'eventuale rivoluzione nanotecnologica che permetterà alla gente di creare potenti armi a casa, bypassando la regolamentazione commerciale stessa. Forse è il momento di ripensare al nostro senso di causalità, a meno che non abbiate intenzione di mettere fuori leggi e il progresso scientifico. La regolamentazione, prima o poi, non conterà assolutamente nulla. Allo stesso modo, a pensarci bene, forse abbiamo anche bisogno di fare un passo indietro e riconsiderare cosa sia davvero una minaccia per la nostra sicurezza, come si relazionano con le altre minacce. Il 15 aprile 2013, delle bombe sono esplose durante la maratona di Boston negli Stati Uniti, uccidendo 3 persone e attirando l'attenzione globale, come un altro 11 settembre. Eppure in Iraq, nello stesso identico lunedì, delle bombe esplose erano uccidendo 20 volte lo stesso numero di persone. Ma di questo a nessuno sembrava importare un granché. Se fate caso, potreste notare che la vera pericolosità di una minaccia, quale che sia, o il reale prezzo della violenza, in realtà non contano molto nella percezione dell'establishment. E l'idea, il contesto, lo spettacolo politico che importa. Questo spiega perché l'America abbia speso quasi 5.000 miliardi di dollari sul cosiddetto terrorismo. Quando i cittadini statunitensi oggi, e statisticamente sempre, sono morti maggiormente per allergia alle arachidi, o nella vasca da bagno anziché in un attacco terroristico. Come vedremo in questo episodio, il settore della sicurezza o industria della paura, che comprende mezzi di informazioni, apparato militare e i sistemi di giustizia criminale, non solo sfrutta la distorsione sociologica nata dalla fabbrica della nostra miseria, cioè l'ordine sociale basato sulla scarsità, che ora sembra stia accelerando in un circolo vizioso. Che altro posso dire? Dato tutto questo, sto cominciando a sospettare che forse, ma solo forse, qui sia in gioco il fondamento del nostro sistema socio-economico. Ora non più funzionale al progresso umano su questo pianeta, ma di fatto è come una deriva verso una cultura in declino. Dalle prigioni oscure del Medioevo, alle nostre moderne strutture di incarcerazione di massa. È una struttura caratteristica della nostra società. Gli Stati Uniti, la terra dei liberi, ha ora la più alta popolazione di detenuti del mondo, avendo rinchiuso in carcere più di 2 milioni di persone. Gli Stati Uniti hanno rinchiuso più persone di ogni altro paese sul pianeta, ospitando il 25% dell'intera popolazione carceraria. mondiale, con un aumento dell'800% di incarcerazioni solo negli ultimi 30 anni. Basata in parte sulla necessità di isolare effettive minacce dalla società, unita ad uno scuro senso di punizione e vendetta, la tradizione punitiva e di deterrente comune al nostro sistema di giustizia sta ora venendo smentita da alcune considerazioni delle scienze umane. Ci dimentichiamo spesso che nel comportamento umano la vera causa del comportamento è storicamente sconosciuta, prestando invece attenzione a forze superstiziose, come il bene e il male. Questi presupposti metafisici sono tanto convenienti quanto ambigui. La scienza sociale moderna pone ora i cosiddetti atti criminali o antisociali nel contesto del benessere pubblico con reali soluzioni nel campo della medicina preventiva e non più nella semplice punizione. Naturalmente, come avviene nella maggior parte delle analisi razionali, questo punto di vista sta smuovendo le assunzioni tradizionali, moralmente empiriche, in quanto frantuma il glorificato libero arbitrio su cui il nostro intero sistema di giustizia criminale è basato. Ad ogni modo, mettiamo tutto questo da parte per il momento e sottolineiamo il fatto che, mentre chiunque normalmente teme la prigione, il suo effetto come deterrente è in realtà abbastanza limitato. Vediamo nel corso degli anni un aumento notevole delle incarcerazioni, quindi con questa osservazione di base, la minaccia punitiva della prigione non sta chiaramente funzionando, statisticamente parlando. Allo stesso modo, il carcere dovrebbe essere una qualche forma di centro di riabilitazione, giusto? Dunque funziona per correggere il comportamento umano, portando dentro cosiddetti criminali e facendo uscire cittadini mentalmente sani e rispettosi della legge? No, negli Stati Uniti due terzi dei prigionieri rilasciati ha una recidiva entro tre anni, spesso con un reato più grave e violento. Il dottor James Gilligan, ex direttore del centro per gli studi sulla violenza alla Harvard Medical School, si riferisce in realtà alle carceri come scuole di specializzazione per la criminalità e la violenza. Quindi, considerato tutto questo, forse dobbiamo fare qualche passo indietro, scrollarsi di dosso le catene della percezione comune e chiederci quali altri ruoli abbiano realmente i sistemi giudiziari e carcerari, perché se l'incarcerazione non funziona statisticamente come deterrente e quelli che escono di prigioni sono molto spesso peggio di come erano quando vi sono entrati, è chiaro che qualcosa non torna. Che altro sta succedendo, mentre la giustificazione per la reclusione è certamente valida, in relazione alle minacce sociali? Così come avviene per il bisogno medico di mettere in quarantena qualcuno, che è una minaccia alla società per via di una malattia contagiosa. L'evoluzione della prigionia mette in evidenza alcune verità quantomeno oscure. Il miglior modo per vederlo è da un punto di vista storico, considerando i conflitti di razza e di classe, nel contesto della convenienza economica e di quella politica. La prima cosa da capire è che il potere politico, come quello economico, ha origine dalla sua inefficienza sociale. In altre parole, i politici hanno bisogno di qualche cosa da combattere e in una certa misura più problemi ha una società, più i cittadini tendono a sentire il bisogno di cedere la loro vita al controllo del governo, essendo la paura l'effettivo problema più collaudato, come per esempio la paura per un gruppo percepito come estraneo. Naturalmente questa idea è conosciuta da anni. Il teorico politico Carl Schmitt, nel suo The Concept of the Politican, afferma che l'unità politica si raggiunge definendo un nemico comune. Niente di nuovo, i nazisti lo fecero con la cultura ebrea, i primi Stati uniti lo hanno fatto con la cultura dei nativi americani e così via. In breve il trucco consiste nel far nascere l'idea che qualche sottocultura, di solito tra le minoranze, è la vera fonte di tutti i mali della società, generando un risentimento di massa e ignorando in tal modo realtà più autentiche, ma politicamente sconvenienti. E sebbene il razzismo e la discriminazione diretta siano di sicuro vivi e presenti nel mondo oggi, il pregiudizio più sfuggente, ma rilevante, è in realtà quello economico. La più grande minaccia per ogni establishment politico è... che dici? Questa? Questa è una piattaforma? È tridimensionale? C'è la base, sì, lo so. Non è precisa. Fanculo Bob, non farti sparare di nuovo. La più grande minaccia ad ogni establishment politico, dicevamo, è l'opposizione al suo fondamento economico di base, insomma, in quanto ogni struttura politica ha radici in un pregiudizio economico. In un modo o nell'altro, se si riesce a fare il lavaggio del cervello alla gente, diciamo, vedendo i fallimenti del capitalismo come originati dalla misera virtù morale di un piccolo gruppo di persone che causa problemi seri, anziché come una conseguenza integrata, della psicologia elitaria, del capitalismo e della struttura portata avanti dalla scarsità, si può mantenere il controllo. E qui entra in gioco l'inganno del comune nemico che viene considerato come un capro espiatorio. Non è così male. Semplicemente diamo la colpa alle vittime di questo sistema, spingendo la responsabilità lontano dalla più rilevante condizione sociale causale e ambientale stessa. E nel contesto del sistema giudiziario, la lotta al crimine è uno strumento perfetto. La lotta al crimine non è altro che una guerra ai poveri, alla gente economicamente irrilevante. E se una società viene condizionata a credere che una persona che ruba un'auto mobile commetta un abominio morale, considerando tutte le cattive scelte di vita per sbarcare il lunario, allora verrà nascosta la vera causa del crimine commesso. In realtà, la maggior parte di coloro che sono oggi incarcerati sono lì quasi sempre per crimini nati dalla privazione. Privazione che può essere generalizzata in due forme, relativa e assoluta. La privazione assoluta è quando i bisogni di base di una persona semplicemente non sono soddisfatti. La principale origine è la povertà. La povertà genera moltissimi problemi, dallo spaccio di droga al furto, alla prostituzione, alla difficoltà di trovare un lavoro onesto e legale, alla confusione emotiva, alle nevrosi d'autostima, alle automedicazioni illegali, che portano a complesse e delusive reazioni a catena che possono manifestarsi in un comportamento antisociale e distruttivo. Oggi, un bambino afroamericano su 15 negli Stati Uniti ha almeno un genitore in prigione, di solito il padre. La figura del padre è importante per la sopravvivenza familiare. È colui che storicamente procura il pane. Ma il comprovato questo è motivo sui bambini, che devono crescere senza una tale figura genitoriale, ha anche esso una triste conseguenza. Quei bambini hanno anche statisticamente maggiore probabilità di diventare criminali da adulti. Se si combina la povertà con la privazione morale, si ottiene la ricetta perfetta. Non solo per la manifestazione di comportamenti socialmente abberranti, ma per il perpetuarsi di tali distorsioni attraverso le generazioni. La privazione relativa, d'altra parte, è quando il nostro senso del valore e rispetto per se stessi viene associato alla nostra percezione culturale di successo. Mentre la privazione assoluta si misura tramite problemi nella salute, esprimendo il bisogno sempre importante di lavorare, per assicurare efficientemente i nostri bisogni umani per la salute e la sicurezza. La privazione relativa esiste nell'ambito del confronto soggettivo e della risultante disumanizzazione. Probabilmente il più grande esempio di questa pressione negativa è lo squilibrio di classe nel mondo. Mentre coloro che sono ufficialmente considerati i poveri dell'Ovest oggi vivono in termini immateriali meglio della classe più alta di un centinaio di anni fa, la stratificazione del benessere che si verifica oggi continua a creare problemi psicologici complessi e destabilizzanti. Considerato a lungo un incentivo per il progresso sociale, la differenza di classe e lo squilibrio nel benessere si è rivelato un problema importante per la salute pubblica, generando una distorsione psicologica e sociologica di massa. I problemi qui sollevati hanno più a che fare con il commercio di quanto ne abbiamo con il secondo emendamento. Tante persone fanno una valanga di soldi vendendo armi e munizioni. La National Rifle Association ha detto che la soluzione è avere guardie di sicurezza armate in ogni scuola. Certamente ogni unità di sicurezza che impieghiamo può essere d'aiuto, ma è stupido pensare che la sicurezza sia tutto ciò di cui abbiamo bisogno. La vera sfida qui è possiamo prevenire queste tragedie... Scusi se la interrompo, capo, ma dato che avete richiamato il concetto di prevenzione e che è certo la vera questione qui, no? Vorrei sapere su quando questa discussione si sposterà verso la scienza sociale. Abbiamo qui la National Rifle. Tuttavia non abbiamo nessuna dell'industria farmaceutica. Non è vero forse che la maggior parte delle fucilazioni di massa che si sono verificate sono state effettuate da persone sotto l'influenza di farmaci che alternano psicologicamente l'umore. O meglio ancora... Dov'è l'imperatore della droga di questo paese? Sin da quando è iniziata la guerra alla droga c'è stato un massiccio aumento di violenza armata legata alla droga. Ignoreremo anche questa correlazione? Ancora meglio, quasi dimenticavo. Mi è giunta voce dei dati di centinaia di anni sulla relazione tra squilibrio economico, squilibrio nella ricchezza e violenza. Eppure le statistiche sono diventate molto chiare sul fatto che il divario tra ricchi e poveri genera più violenza. Maggiore il divario, maggiore la violenza. E il crimine in generale? Cosa potrebbe spiegare, tra l'altro? Perché gli Stati Uniti con la più grande differenza di reddito al mondo abbiano anche la maggiore violenza e la peggiore salute pubblica di ogni altra nazione del mondo. Questo non meriterebbe una discussione del congresso? Con tutto il dovuto rispetto non potete essere così ingenui da pensare che la riduzione delle armi, come suggerisce la sinistra, o l'aumento di sicurezza armata nelle aree pubbliche, come suggerisce la destra, avrà veramente un effetto a lungo termine. Su problemi sociologici così profondamente radicati, giusto? Un problema chiaramente radicato nella disumanizzazione strutturata. e nella privazione economica che è inerente al nostro sistema sociale. Non è forse una considerazione valida per affrontare questo problema? No. Quando abbiamo iniziato la cosiddetta guerra alla droga? Quando Richard Nixon ha dichiarato la guerra alla droga nel 1971 ha chiesto inizialmente 84 milioni di dollari. Nel 2013 il budget nazionale per il controllo della droga ne ha richiesti 25,6 miliardi, con circa mille miliardi spesi in totale. E il risultato nel corso del tempo è stato più droghe, maggiore facilità di accesso, maggiore potenza e più utilizzatori. Oggi quasi la metà dei detenuti sono coinvolti in crimini di droga non violenti. Spesso sono solo dei semplici tossicodependenti che hanno un problema di salute mentale, chiaramente da non punire. Oggi leggi draconiane di condanna inobbligatoria possano mandare bambini in prigione per anni solo per il possesso e non è un segreto che questa sottocultura criminale è per lo più generata da proibitive economie dei bassi fondi, necessariamente germogliate nelle zone più povere del paese, in gran parte occupato da minoranze. Per inciso, spesso dimentichiamo quanto profondamente razzisti siamo stati nella storia passata degli Stati Uniti. Ma ancora oggi ci sono più afroamericani dietro le sbarre di quanti erano schiavi prima della guerra civile americana. Dopo la segregazione la comunità di colore fu strategicamente isolata in ghetti a basso reddito, interni alle città, cose che li ha sistematicamente derubate di ogni opportunità economica e con il maturare della cultura nazionale, con la graduale dissipazione del razzismo attraverso l'introduzione di diritti civili, l'oppressione economica messa in moto a quell'epoca è rimasta tale, creando un circolo vizioso che si perpetua. Oggi un uomo di colore ogni tre si aspetta di andare in prigione da un momento all'altro della propria vita e in effetti il vero meccanismo oppressivo il giorno d'oggi non è più una divisione di classe razziale ma economica. E la conclusione è brutale, non solo i poveri e i dimenticati della nostra società sono convenientemente trasformati in criminali anziché considerati un fallimento. L'ingenuità capitalistica prevale ancora una volta, trasformando queste persone nient'altro che in meri beni commerciali, creando un'industria di profitto di massa da una classe sociale altrimenti economicamente inutile. Dalla generazione di reddito, che si tratti di multe, biglietti, la cauzione o spese legali per la massiccia rete di manutenzione dei milioni di detenuti attraverso l'assistenza sanitaria, la produzione di cibo, l'assunzione di sicurezza, agenti di custodia e simili, la prigione e il complesso dell'industria di sicurezza nell'Ovest è un'impresa di grande successo con un fattore positivo per la crescita economica. Il costo per imprigionare una persona per un anno nello stato della California è di circa 47 mila dollari, che moltiplicato ai 2,3 milioni di prigionieri statunitensi nel 2013 fa sì che il solo servizio di incarcerazione costa più di 100 miliardi di dollari di reddito in un anno e questo non tiene conto degli altri 5 milioni attualmente in libertà vigilata. La Correctional Corporation of America, Wakenat, e altre società di sicurezza e prigionia private a scopo di lucro oggi danno beneficio ai loro investitori e azionisti quando i tassi di incarcerazione aumentano, per non parlare dell'uso del lavoro ormai molto comune o l'uso del lavoro da schiavi, dovrei dire, dei prigionieri stessi. Ebbene sì, potremmo provare un po' di indignazione quando un giudice della Pensilvania viene sorpreso a condannare dei bambini in centri di detenzione privati per tangenti in denaro, ma di nuovo siamo davvero sorpresi? Ci sono anche piccole città del Midwest dove la maggior parte sono impiegati dalla prigione locale e se non avessero la criminalità e i prigionieri l'economia della loro città verrebbe distrutta. Per non dire che la maggior parte dei dipartimenti di polizia ricavano enormi finanziamenti da arresti per droghe sequestri. Se la guerra alla droga si fermasse il dipartimento di polizia perderebbe miliardi di dollari. Eh sì, la tana del bianconiglio è ancora più profonda. Se facciamo un altro passo indietro scopriremo un rafforzamento economico ancora maggiore. Vedete, il traffico di droga è tutt'altro che limitato ai tipisti di strada locali. Oggi le banche statunitensi ed europee riciclano circa mille miliardi di dollari ogni anno in denaro criminale, per lo più di droga. Il denaro della droga è ormai diventato una parte molto rilevante della macchina di Wall Street. Di recente, la banca HSBC è stata beccata in un movimento di denaro di droga da circa un miliardo di dollari. Forse i dirigenti criminali vengono mandati in prigione? Certo che no. Perché? Perché il sistema giuridico è in gran parte lì per controllare i poveri, non per regolare i ricchi. HSBC ha solo pagato una multa ed è andata avanti probabilmente operando per riposizionarsi di nuovo, così come la dozzina di altre banche che continuano a riciclare soldi della droga ogni anno. Comunque tornando alla questione principale, questo approccio ormai altamente capitalizzato del tipo gioco di colpa nemico comune, non sta lì per rispingere i poveri che ne risultano, è onnipresente in qualunque momento. Che sia la criminalità comune, il terrorismo, gli omicidi di massa o qualsiasi cosa destabilizzante, vediamo i principali media e anche molti nella cosiddetta comunità di attivisti, mancare completamente il problema. Sepolto sotto la propaganda dentro gli schemi dell'autoconservazione dell'establishment, che appaia più o meno chiaro. E sapete qual è la soluzione di Bill Moyer a questo? Liberare i criminali non violenti, come gli spacciatori di eroina. Sì, questa è non violenza. Sei un genio, Bill. ...universale delle armi? Ma riguardo... Aspetti, questo è un argomento importante. Sì, sto ascoltando. Per qualche ragione Wayne LaPierre non ce la sta facendo, quindi dovrete ascoltarlo da me. Controllo universale dei precedenti significa registrazione universale, registrazione universale significa confisca universale, sterminio universale. E' come se Dio ci dicesse, guarda, devi collaborare con me in questo. Ti ho dato un cervello. Ti ho dato il secondo emendamento della Costituzione. Ti ho dato le armi. Perché non utilizzarle? I tiranni lo fecero. Hitler ha tolto le armi, Stalin ha tolto le armi, Mao ha tolto le armi, Fidel Castro ha tolto le armi, Hugo Chavez ha tolto le armi. E io sono qui a dirti, il 1776 avrei inizio ancora una volta se provate a toglierci le nostre armi da fuoco. E il premio per il fanatico conservatore belligerante di Culture in the Climb va a... Alex Jones! I'm here to rape your butt. You know why? Because it's going to feel better if I do it before the New World Order does. That's right. The globalists are positioning themselves behind you right now. They're going to take your guns, put you in FEMA camps, and make you their slaves. They think I'm a slave. I'm not a slave. And then late one night when you're drinking their homosexually fortified juice boxes, BAM! The butt rape begins. And you'll be happy that old Alex was there first to loosen you up real nice and good. Now people, I'm not going to take too much time because I'm a humble man. But I want everybody to go to my website right now and buy my newest DVD. The Conspiracy! Conspiracy! How the global elite pays me to make the Liberty Movement look insane. That's right, people. I'm an astroturfer. I'm not here to help things. I'm here to make activists look like freaks. I'll take viable issues of real concern and make them sound as ridiculous as possible. Just like all the other bobbleheads out there. I'm here to distract you, you morons. And keep you fighting about nonsense. And I get paid to do it! Interrompiamo questa trasmissione per un annuncio di emergenza. Gli aeroporti statunitensi rimangono in massima allerta in questo momento a causa della minaccia di un attacco terroristico. Secondo l'FBI, è stata scoperta una nuova forma di tecnologia terroristica che ha causato una revisione delle procedure di sicurezza aeroportuali. Esatto, Summer. Dopo la minaccia di una bomba liquida del 2006 e di una bomba nella biancheria intima del 2009, questa nuova minaccia è stata rivelata alle autorità in un videotape presumibilmente trovato in una latrina in Willy Wonkastan. La data del video è sconosciuta. Non sappiamo di preciso chi l'abbia realizzato. L'uso di macete, copricapi e la lingua araba è bastato alle autorità federali per dichiarare che fosse di Al-Qaeda. Il video è piuttosto sgranato. Sembra mostrare una procedura medica che spiega come impiantare esplosivi nella cavità del corpo di bambini, pupazzi e gattini. La visione è consigliata solo ad un pubblico adulto. Baby go boom! In risposta a questo video, la TSA, dopo un fallito tentativo di rendere illegali i bebè a titolo definitivo, ha ora istituito una nuova regola universale. Tutti i bebè e i piccoli animali sotto il chilo e mezzo devono essere sigillati in un sacchetto di plastica trasparente. Molta gente non se ne rende conto, ma la Terra ha ralentato per molti anni e se non fosse per queste ventole enormi dietro di me, saremmo arrivati ad un completo arresto del giorno e della notte. Ed ogni parola che dico è vera. Sapete perché? Perché l'avete sentito da uno in giacca e cravatta. Mi spiace, signori e signori, ma Bob è ufficialmente morto. Pensieri finali Viviamo in un modello sociale basato su scherzità e inefficienza. Più la società risolve i problemi, più soddisfa i bisogni umani. Più si stabilizza riconoscendo potenzialità e limiti delle leggi naturali, meno l'economia monetaria potrà essere davvero sostenibile. C'è un motivo per cui l'obiettivo finale del dottor Martin Luther King era un sistema di reddito garantito in tutti gli Stati Uniti. Egli sapeva che il razzismo era, per molti versi, un'estensione del classismo. L'esistenza della povertà, in un mondo che può creare abbondanza per soddisfare i bisogni di tutti, era niente più che un'oppressione strutturale, derivata da un sistema sociale, elitario e fallito. Un'oppressione che genera, infatti, il crimine e la destabilitazione in un circolo vizioso. Volete vedere un calo nelle economie proibitive della vendita di droga, la prostituzione e gli anelli urbati al mercato nero? Volete vedere una riduzione dell'abuso di farmaci e di automedicazione, sia legali che illegali? Volete vedere la fine della guerra nazionale, un miglioramento nell'infrastruttura sociale, in modo che le malattie possano essere ridotte ad una frazione di quello che abbiamo ora? O forse volete vedere la fine delle sparatorie a scuola, della violenza armata e degli atti di terrorismo, sia come operazioni segrete finanziate dallo Stato che come reali attacchi? Allora è il momento che la famiglia umana riconosca il suo potenziale globale per raggiungere una realtà senza scarsità, che lavori per condividere le risorse, che si impegni per soddisfare i bisogni umani e concentri l'energia collaborativa sugli interessi per un vero miglioramento, quindi rimuovendo la guerra intrinseca, inutilmente integrata nel nostro arcaico sistema socio-economico, insieme a tutto risultante razzismo, odio, disumanizzazione, oppressione ed elitismo che manifesta. Non vi sto dicendo di scrivere al vostro membro del Parlamento, se il sistema sociale è la malattia allora coloro che si incaricano di garantire il suo finanziamento sono come tumori e lesioni. Quindi, voltare un partito o pensare che un modo corretto di spesa pubblica cambierà il modo in cui va questo mondo sarà solo una delusione. Stiamo andando verso un nuovo approccio, una rivolta parallela, di potere. Per spostare la corrente, e sia che ne siamo colpevoli o no, questa sta lentamente accadendo. E la domanda è, quanto vi coinvolge? Quanto ve ne importa? Comunque sia, siete i benvenuti nella cultura in declino. E questo spettacolo, per quanto merdoso sia, continuerà. Se invece vi coinvolge, allora forse questo reality show potrebbe finire prima di quanto pensiamo. Ma fino a quando ciò non accade, io sarò qui. Sottolineando arrogantemente che la maggior parte di tutto quello in cui credete e avete caro è sbagliato. Quindi tornate alle vostre bibbie, ai vostri videogiochi, ai porno su internet e agli AK47 e divertitevi un po' in questo circo torbido che chiamiamo normalità. E fino alla prossima volta, sono Peter Jones e chi vi piaccia o meno, io esisto. Come agente e vittima di una cultura in declino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. It's these NWO scum, they're going around trying to butt rape everybody. They're just nothing but a butt rape machine. It's these NWO globalist communist scum, they're going around like a butt rape machine. I'm a butt rape machine, butt rape machine, people I am a butt rape machine. You know what? Instead of the bald eagle, the national symbol should be a man laying in submission in the fetal position, peeing on himself. That's what it should be, peeing all over his damn self. If you can't tell, if you can't tell, this is all an act. It's a shtick. That's why I act all crazy and shit. Flailing my arms and my neck like this. It's an act. It's a shtick. I need money. Ha 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 ha. Woo! Keep grunting. Yeah. How about that? You want some of that? You want some, Peter? Ha ha ha. Ha ha ha. Grazie a tutti.